Ciao a tutti, eccoci qua, allora benvenuti in questo nuovo video, la video recensione di oggi è un film del 2010, è un cult ed è un film di un regista con la A maiuscola ed è John Carpenter. Allora, il film in questione è The World, il reparto, di che cosa parla questo The World? Parla appunto di questa ragazza che brucia questa fattoria e viene appunto presa dalla polizia e portata in questo manicomio. Questo manicomio incontrerà altre tre ragazze, anzi altre cinque scusate, ragazze appunto che hanno sempre dei disturbi mentali, è un personale molto ferrato sui regolamento, e un medico che sembra all'inizio un sadico ma poi che scopriamo essere forse la persona che sembra che voglia salvare un po' la situazione e poi c'è una presenza in questo manicomio e non mi svelo il finale, non mi svelo appunto il resto perché appunto è tutto da vedere, è un film veramente ben fatto, un film che tu stai pensando a una cosa anche verso il finale, poi ti stravolge tutto, è un film straordinario, fatto veramente bene, il futuro l'ha fatto bene, girato bene, anche i momenti di tensione, i momenti di paura, dove appunto lo spettatore si deve spaventare e si spaventa, la tensione c'è assolutamente anche con queste inquadrature dove non si vede proprio la presenza appunto che sta arrivando, ma si vede appunto la telecamera che piano piano scorre ed è come se appunto questa presenza stia camminando e arrivando sempre dritta all'obiettivo. E quindi è un film veramente veramente straordinario, il protagonista è molto brava, anche le tre ragazze, il medico è un attore famoso, perché adesso non mi ricordo il nome scusate, ma vabbè andate a cercarlo. E comunque ha un finale che stravolge tutto, tra l'altro è un po', non so se appunto, ci sono vari argomenti in questo film, cioè la storia è una storia appunto all'inizio semplice e poi, come ho detto prima, stravolta, che viene stravolta alla fine, però tocca diversi argomenti, come la malattia mentale, i manicomi, cioè come vengono appunto trattati, come venivano trattati i pazienti dei manicomi, il fatto appunto della psicanalisi, della mente, della nostra mente, della nostra psiche, insomma, ci sono un sacco di argomenti che appunto in questo film vengono trattati. E il film appunto, come ho detto prima, è fantastico, è l'ultimo film di Carpenter da lui girato, peccato, perché secondo me avremmo bisogno anche di un altro film di Carpenter, però questo è l'ultimo che appunto ha girato, che appunto è stato nel 2010, è un film bellissimo, veramente straordinario e consiglio assolutamente di recuperarlo, se non l'avete visto, infatti vi lascio anche qui sotto i link dove potete acquistare DVD o Blu-ray e vi lascio anche il link di Amazon Prime, e poi i link dei miei libri, se volete acquistarli. E niente, detto questo, io insomma vi ricordo appunto queste appunto tre cose che vi ho detto adesso, e appunto DVD, Blu-ray, Prime Video e i miei libri, qui sotto, tutto qui sotto, quindi se volete dare un contributo a me, se vi piace i miei video, qui sotto trovate tutti i link a disposizione, ok? Bellissimo film, John Carpenter, The War, Il Reparto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!